Ecco, ho fatto... Ma che pale, proprio sto imbecile davanti! Mi sono fatto questo nuovo carattere, il barbone! Mi sono messo fuori dal centro commerciale e adesso chiedo i soldi! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Ma che cacchio vuole questo? Che sto chiedendo la carità davanti al centro commerciale! Alla prossima! Alla prossima! Climeless fish! Adesso mi chiedere l'autostop! Non c'è la... fare... l'autostop! Vabbè, non lo parlo! Vedi che bello, non neanche le scarpe! Andiamo dentro il mold! Si, c'è il telecamere un po' sporco perchè... L'ho attaccata a caricare e il filo non arriva bene! Guacamola! Vieni qua! Alla prossima! si può stare a vedere questi tipi fuori poi si può, ah, si può giocare a scacchi chiamo scacchi se mi ricordo come si gioca a scacchi gli farò la mossa del tritone e ti sparco, e ti sparco subito ah, che idiota adesso mi mangia oh, non l'ho mangiato, incredibile ma è bello per noi si può andare a vedere guardare gli altri come si dice fatta la carità in inglese ma al semagro c'è uno che dice solo eh, lo stesso adesso trovo qualche italiano c'è 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 su scaccio cosa sta facendo su scaccio oh erro si a volte siccome è ancora in beta non riesce a entrare però oh oh ma dai miserotto c'è mica 100 lire sarebbe bello se dopo si può comprare tipo un computer dopo puoi vedere anche la posta elettronica le oppure in internet perché internet c'è nella playstation ma magari si può tipo qua questo è il mio club guarda come l'ho ridato bene ho messo le poltrone poi c'ho la bacheca dove posso mettere i messaggi ho messo i ciuschi che devo comprare però non c'è nessuno ho invitato poi c'è lo schermo lì sicuramente spera mettere qualcosa oppure c'è dove è finito il divano qualche stronzo mi ha spostato il divano aspetta un po' aspetta un po' lo divano l'avevo messo qui perché adesso quando danno i film ci si siede oh oh il divano deve stare qui oh ah non c'è nessuno ma andiamoci ma vediamo delle funzioni qui puoi andare nel guardaroba cambiarti i vestiti la mappa ah sì facciamo guardaroba